Ma cominciamo, buongiorno, giusto in tempo per quando iniziava la trasmissione, salve siamo qui dagli studi dell'aula Spallanzani per questa serie tv dell'università di Torino giusto, siamo alla seconda serie, voi avete già seguito ovvero la prima serie, con me vi ricordate di me giusto, sono il vostro professore di istologia, esatto sono proprio io, sono di nuovo io, che palle, vabbè mi dispiace ma è l'ultima volta promesso, allora e appunto cosa vi ho insegnato io, o ci ho provato almeno, ho cercato di insegnarvi oddio vediamo se abbiamo subito i problemi tecnici e ti pareva, ok così vedete quello che vedo io, ok, allora quindi io cos'è che vi ho insegnato nel corso, o ci ho provato diciamo no, nell'altro corso, ho cercato di insegnarvi quanto sono diverse le cellule, giusto e come si organizzano tra di loro, quindi abbiamo già un'idea dello spettro di fenotipi e dei mille modi di appiccicarsi tra di loro che hanno le cellule vicine, lontane con la matrice, a creare delle forme, giusto, dei tessuti abbiamo visto, ha detto state studiando l'anatomia però, insomma l'anatomia avete visto è un insieme di tessuti, queste forme, queste sculture biologiche bellissime, le state studiando adesso anche in 3D, ok, quello che vi devo insegnare io adesso nella seconda serie è come ci si arriva, d'accordo, quindi faremo una specie di corso di scultura biologica, di come arriviamo, anzi come si autoscolpiscono, questa è una cosa se ci pensate pazzesca, i mobili dell'IKEA non si autocostruiscono, giusto? Magari li diventeranno un giorno, mentre invece questi organismi biologici con tutta la bellezza, c'è un elemento di bellezza nella biologia, no? Quanti di voi sono qui perché è bella la biologia? Eh dai cavoli, ah pochi, qualcuno la trova brutta e è venuto lo stesso, vabbè sono anche quelli a cui piacciono le cose brutte, ma va bene, degusti, ok, la biologia è bella e la bellezza della biologia sta anche in queste forme, sta anche nella logica, nei meccanismi, nella magia che c'è dietro, ai meccanismi che portano a queste forme, però le forme sono belle e il fatto che si auto-organizzino è pazzesco, hai capito? E quindi noi cercheremo di, in questo corso, capire questo, questo sarà quello che cercheremo di fare. Allora, materiale didattico, un pasticcio, non c'è un libro che racconta veramente quello che vi devo raccontare. Allora, c'è un fantastico libro, di cui tra l'altro qui forse non ho messo neanche l'ultima edizione, in effetti no, c'è un'edizione più recente, già dell'anno scorso avrei dovuto cambiare questa slide, poi me ne sono dimenticato, comunque questo developmental biology, questa è una bibbia, contiene molto di più di quello che io vi dirò, quello che dirò c'è quasi tutto, non proprio tutto, ma quasi tutto, però chiaramente c'è molto di più. Insomma, non lo so, potete comprarlo, c'è in biblioteca, scusate, non ve l'ho messa ancora le slide, ma troverete tutto in anticipo, già dalla sera prima, si spera più o meno, vediamo, su Moodle, quindi sulla pagina di Moodle, io vi caricherò la presentazione, quella di oggi no, perché era una sorpresa, perché oggi è uno spettacolo a parte e non voglio che guardate troppo la presentazione, voglio che guardate me, mi sono anche messo carino oggi, ok? E quindi quella di oggi no, ma la troverete subito stasera e poi dalla prossima settimana invece le troverete sempre su Moodle la sera prima. E ovviamente anche la registrazione del video va sul canale che conoscete già di YouTube, che non dico, perché è segreto, capito? Io sono lì in incognito e quindi, ma voi sapete di cosa sto parlando, già siamo capiti, ok? E' molto bene, allora, ma l'altro elemento che ci servirà per partire è il nostro pagina VClub, adesso vedrà, quando diventa troppo troppo lunga a un certo punto ne creerò un'altra, ma per adesso possiamo rimanere attaccati a questa, BCS01, ma vi dirò, così per rompere il ghiaccio, c'è sempre quel momento di rompere il ghiaccio e ci serve un martello, no aspettate, per rompere il ghiaccio ci serve una domanda su VClub, giusto? Ci serve un attimo di interazione dove parlo io ma parlate anche voi, giusto? E quindi, attenzione, io volevo vedere un attimo un prerequisito fondamentale, è il Gilbert Barresi, in realtà Gilbert adesso ha i suoi anni, sta andando in pensione ed è stato quasi sostituito da questo Barresi che tra l'altro è uno che ha la mia età, che studia anche lui la neurogenesi adulta come me e in effetti ha un'impostazione che a me piace molto, anzi ho cominciato ad avere quell'impostazione prima che il libro ce l'avesse, quindi a maggior ragione adesso che c'è lui, questo libro ha un'impostazione che somiglia alla mia, che mi piace molto. Ok, ma bando alle ciance, avete visto quella domanda? Avete un cellulare? Un computer? Avete qualche strumento? Un device? Trovate il vostro device preferito? E rispondetemi a questa domanda. Come no? Ah scusate, uno è sì e due e no, mi sono dimenticato. Oddio, davvero? Minchia che pole position, dai! Ma veramente? Ah preparatissimi, ma avete dato biologia molecolare già? Ah già porca vacca, mi dimentico sempre. Ok, quindi la nostra prima domanda era, ok molto semplice vedi, per rompere il ghiaccio, però non si sa mai, tutte le cellule di un organismo pluricellulare hanno lo stesso genoma? e che se ne fanno? Ma ve lo siete chiesto? Ma perché? Cioè che spreco di spazio, hai capito? Mica lo usi tutto, le cellule in genere ne usano solo un pezzo, perché portarsi dietro tutto stomaco? Sono come quelle vecchiette che tengono tutto in casa e non riescono a buttare via niente. Ma, ok, ma allora a questo punto, scusate, se siete così sicuri di voi su questo, fatemi un bel v-club su quest'altra domanda. Ma se tutte quante hanno lo stesso maledetto genoma, allora, che cos'è che le rende diverse? Perché sono diverse? Vediamo un po', ci sono un po' di idee che girano. Accidenti, ma questa la mandiamo subito a Oliviero che sarà felicissimo. ok, mi sembra che avete studiato bene. Ok, stanno venendo fuori un sacco la regolazione del genoma, scusate ci sono anche cose che non capisco, come lo esprimono, esatto, la diversa espressione genica, l'espressione genica e questa espressione matematica, che è quasi un'espressione matematica, l'espressione genica, ok? Quindi, ok, fantastico, grazie, esatto, proprio quello, proprio quello. Quindi le cellule condividono tutte lo stesso genoma, ma lo esprimono in modo diverso e chiaramente non lo buttano via chissà, forse perché non si sa mai, perché a volte se ne possono riutilizzare dei pezzi, perché questi programmi genetici sono un bel po' sparsi in questi genomi. Ok, però effettivamente quello che appunto poi sarà il nostro corso, l'argomento del nostro corso sarà appunto questo passaggio da una sola cellula a un sacco di cellule, a centomila triliardi di cellule diverse e sono diverse non perché hanno un genoma diverso, ma sono diverse perché andranno a leggere nel genoma solo le parti che gli interessano. Ok? Quindi andranno a scegliere, c'è una scelta in questi destini cellulari e io so che quest'anno con Isabella avete già parlato di scelte, giusto? Voi avete scelto biologia, ecco, però avete così empatizzato con delle cellule che anche loro erano lì a decidere che cosa dovevano fare da grandi, giusto? Siete già scese nei loro panni, oddio, faccio la vulva o faccio la semplice epidermide, ma non lo so, sono in dubbio, però è contro. Ok. E appunto adesso noi riprenderemo questi concetti e li svilupperemo però a questo punto su organismi molto più cicciotti e soprattutto insomma li vedremo sotto vari punti di vista. E chiaramente appunto vedremo un po' questo origami, a me piaceva l'idea dell'origami, del DNA. Ma ancora due o tre cosette per vedere se ci capiamo. Oggi non vi preoccupate, non dovete scrivere molto, è soltanto per mettere giù le domande, le questioni che affronteremo. E quindi voglio anche ancora vedere che cosa sapete già. Da quanto tempo c'è la vita sulla Terra? Lo sapete? Quando è cominciata la vita sulla Terra? Quanto? Chi offre di più? Quattro? Quattro, forse è tanto. Tre e mezzo? Chi offre di meno? Allora la vendiamo per tre, quattro ai signori là dietro, esatto. Tre, quattro miliardi di anni. E da quanto tempo esistono gli eucarioti? Sapete? Quanto tempo c'è voluto da queste prime bolle di sapone che pure avevano il DNA, l'RNA, avevano questa… Lo sapete? No, non lo sapete? Circa due miliardi di anni. Però questo vuol dire che sono passati due miliardi di anni per passare dai batteri agli eucarioti, che per carità sono un po' più cicciotti, ma sono cellule, sempre cellule singole. Ci sono voluti due miliardi di anni. E sapete? E poi la cellula eucariota si è ancora evoluta? E sapete da quanto tempo ci sono i metazoi? Ma chi sono i metazoi? Oh, ma sei proprio un metazoo, comunque volevo dirtelo, ero già da prima. Guarda che faccia da metazoi che avete ragazzi. Chi sono i metazoi? Non state facendo… Guarda che questo lo mando alla Bonelli, io sto registrando. Non state facendo il corso con la Bonelli? No? L'avete fatto l'anno scorso, giusto? Quando lo fate il corso con la Bonelli? Zoologia. Scusate, forse voi non lo fate con la Bonelli. L'anno scorso avete fatto i metazoi? Sono gli animali, siete voi carissimi, siete voi, siete organismi multicellulari, ok? Animali, che sono quelli che studieremo qua. E per questi siamo sui 600, forse i 150, anche i 700 in realtà, ma non importa, al di là delle date, un altro maledetto miliardo di anni per avere, un miliardo e mezzo di anni, per avere i primi gruppetti di cellule, che quando si dividevano invece che andare ognuno per i cazzi suoi, rimanevano appiccicati. Ehi, ma sai che in due siamo più grossi? Andavano a fare i bulli con le cellule singole, a vedere se di mangiarsele, ok? Però attenzione, perché questo, di nuovo, e l'abbiamo già visto nel corso di istologia, di citologia di istologia, che cosa ci dice? Che tutto sommato ci è voluto un sacco di tempo per evolvere questo modello di cellula, complesso di Golgi, reticolo endoplasmatico rugoso, la membrana, le proteine di membrana, la regolazione genica, tutta questa serie di elementi erano già lì e una volta che tutti questi pezzi si sono settati, a questo punto l'esplosione della vita multicellulare è stato un batter d'occhio. Nel giro di 200-300 milioni di anni c'erano delle bestie grosse, capito? Cioè, siamo arrivati ai dinosauri con una velocità pazzesca. E quindi, chiaramente appunto, la multicellularità esiste dallo stesso tempo e così lo sviluppo. Quindi cloni di cellule che si dividono e non si staccano, si piacciono e a un certo punto piano piano si differenziano. Però questa è stata la storia degli organismi pluricellulari e spero che ce l'abbiamo in mente tutti. E se vi ricordate, al corso di istologia avevamo già anche visto un po' questa teoria dell'evoluzione dei tipi cellulari, da dove sono saltati fuori questi tipi cellulari? Ma la cellula muscolare girava da sola nel mare e un giorno ha incontrato un neurone e detto, hey potremmo essere una bella coppia io e te. Certo che no, d'accordo? Siamo partiti probabilmente dalle delle cellule multifunzionali che avevano in sé funzioni sensoriali, funzioni contrattili e riuscivano a far muovere tutto l'organismo. A un certo punto però, man mano che questi organismi diventavano cicciotti, c'è stata sta gara a diventare grossi e far paura agli altri, non so. Comunque la gara è quella, a diventare sempre più grossi, io infatti sto partecipando ancora, sono in lizza per un premio. E comunque man mano che diventavano più grossi, a questo punto unità funzionali, cioè quelle che erano unità funzionali in alcune cellule, si sono rese indipendenti. D'accordo? E quindi quella che era l'unità contrattile in una cellula è diventata la cellula muscolare. Però voi che avete studiato la biologia molecolare, forse potete anche cominciare, io non vi metto niente, ci sono delle teorie proprio dal punto di vista genetico, genomico, della regolazione dell'espressione genica, di come poi a un certo punto è avvenuta questa cosa. E io non ve le svelo oggi, le vedremo pian piano, ci arriveremo, ma mi piacerebbe che già le immaginaste. Avete sentito parlare di moduli di geni? Organizzazione modulare del genoma? I geni per contrarre quella parte contrattile, l'actina, la tropomiosina, ve le ricordate? L'abbiamo messo insieme, l'alfactinina, no, l'alfactinina 3, ecco tutte quelle molecole lì sono parte di un modulo di geni che deve essere regolato in qualche modo indipendentemente, perché hanno la stessa funzione. Allora a un certo punto perché è stato così semplice staccare questo modulo e renderlo una cellula autonoma, è stato sufficiente o vedremo come, prendere quelli che erano i master regulators, sapete che ci sono degli interruttori, dei regolatori di questi moduli di geni e renderli indipendenti. Allora questa cellula qui, quel modulo non lo esprime più, questa cellula muscolare non esprime più il modulo di geni sensoriali e la cellula contrattile, scusate, la cellula contrattile non esprime più il modulo di geni sensoriali e la cellula sensoriale non esprime più il modulo di geni contrattili, ok? E in questo modo si sono separate, però chiaramente mantenendo lo stesso genoma, ecco perché c'è una storia, il motivo per cui queste cellule si portano dietro geni diversi è perché c'è una storia dietro che le ha portate lì, una lunga storia. Ok e in realtà appunto noi questa lunga storia ne vediamo il risultato finale, però andremo comunque ad avere un approccio comparativo, quindi vedremo diverse specie, insomma cercheremo di farci un'idea del concetto generale, di che cos'è lo sviluppo negli animali. E lo sviluppo negli animali in realtà qui ve la butto così, ma insomma anche questo non è da imparare a memoria, basta che ne abbiamo un'idea. Che cos'è lo sviluppo? In definitiva sono se volete 5, sto riassumendo così alla buona, grossi eventi, processi scusate, sono 5 macro processi che però occhio avvengono tutti contemporaneamente. Quindi c'è un po' di crescita in alcuni embrioni di più, in altri embrioni di meno. Ci devono essere delle divisioni cellulari, perché partiamo da una sola cellula ma ne vogliamo triliardi e quindi abbiamo bisogno di triliardi di divisioni cellulari. E poi a un certo punto però bisogna che le cellule si differenzino, quindi facciano delle scelte, decidano chi devono essere e che cosa saranno. Dopodiché però non basta avere tante cellule diverse, giusto? Perché tante cellule di tutti i tipi diversi, quello si chiama teratoma e non era quello che volevamo frugolotto nella culla, giusto? Dagli il latte, punciolino in questa roba, esatto, no. Ci piacerebbe qualcosa anche non bellissimo, insomma, ma più o meno con una testa e una coda. E quindi per avere qualcuno con una testa e una coda serve un pattern, pattern formation, cioè bisogna disegnare il piano del corpo e bisogna che queste cellule non solo siano il tipo di cellula giusta, ma vadano anche al posto giusto. Vedremo, ci sono qui, io l'ho messa in due processi diversi, questo meccanismo di organizzarsi in forme tridimensionali, chiameremo pattern formation, però questo è un po' più proprio il piano del corpo e poi c'è la morfogenesi, che invece è un po' più, diciamo così, la formazione degli organi che avviene successivamente. Perché questi due sono distinti? Non vi preoccupate, potete capirlo anche più avanti. Però diciamo che in definitiva tutto quello che io vi racconterò da adesso a giugno, giusto? Man mano che la temperatura là fuori si alzerà, noi avremo anche sempre più un'idea di questo, di questo concetto fondamentale. Questo è quello che io vi voglio insegnare. Riuscite? L'inglese, ci siamo con l'inglese? Le slide saranno tutte in inglese e poi se volete discutiamo del perché, ma comunque quindi quello che noi vogliamo capire in questo corso è come le cellule decidono chi essere, cioè come vengono fatte le scelte dei destini cellulari, però poi anche come queste scelte vengono fatte diciamo al posto giusto. Vogliamo che i capelli siano sulla testa, giusto? Perché se comincio ad uscirmi un sacco di capelli di qua, magari sono sessi, però c'è qualcosa che non è andato, va bene. Quindi vorremmo capire come le cellule si organizzano nello spazio, come fanno a sapere dove sono? Come fa una cellula a sapere dove sono? Sono una cellula da testa? Le cellule non hanno gli occhi, giusto? E quindi vedremo, non hanno i mitacosi laser che hanno le persone nei cantieri, quelle cose lì. Ok, e poi appunto, quindi qui ci sono un po' di figure che rappresentano questo, eccoci, ci sono due punti però che sarebbero parte di un corso di biologia dello sviluppo e ve lo dico subito, noi invece non affronteremo per niente, il primo è la riproduzione, quindi la fertilizzazione, i meccanismi e anche tutte le tecniche, nel mestiere del biologo, uno dei mestieri possibili, anche se in Italia viene trattato male, è quello proprio di occuparsi di riproduzione, fecondazione in vitro, queste sono tutte cose che i biologi fanno alla grande, meglio dei medici, lì si tratta di lavorare con le cellule e il nostro paziente è piccolo e quando il paziente è piccolo noi siamo i top. Ok, quindi questo è uno dei possibili mestieri anche di un biologo. Ecco noi invece lo saltiamo a pie pari, ci occuperemo diciamo marginalmente di evoluzione, che pure è un altro degli argomenti che in un corso di biologia dello sviluppo bisognerebbe trattare e esiste addirittura una disciplina che si chiama evo-devo, avete mai sentito parlare di evo-devo? No? Vi metterò un video bellissimo che tra l'altro è anche un po' diciamo il trailer di tutto il corso, esatto, esatto proprio quella sto pensando, metterò evo-devo la canzone su YouTube come link stasera. Esatto, però perché l'evoluzione è uno dei temi che si potrebbe trattare in un corso di biologia dello sviluppo? Perché è durante lo sviluppo che si creano queste forme e l'evoluzione poi agisce nel selezionare queste forme, giusto? Ma è durante lo sviluppo che si creano queste forme e quindi c'è un bel po' di evoluzione che si gioca durante lo sviluppo ed ecco perché i biologi evoluzionisti sono interessati allo sviluppo, ma anche i biologi dello sviluppo sono interessati all'evoluzione, vabbè ma tutti i biologi dovrebbero essere interessati allo sviluppo, però anche questa parte la salteremo a pie pari. Voglio però così usare questo concetto di rapporto tra evoluzione e sviluppo, ne parleremo ancora, questo un po' lo vedremo, però l'idea che ci fosse una relazione tra sviluppo e evoluzione è antichissima, anzi è persino prima delle teorie evolutive, questo signor Heckel che vedete lì, lui era uno zoologo e quindi studiava i diversi animali e cercava di trovare le sole, le piglianze, creare delle tassonomie, di trovare i punti in comune tra tutti questi animali. Allora e lui si era reso conto tra i primi, però diciamo no, se non forse è reso conto di qualcun altro, ma lui diciamo l'ha organizzato in una teoria che tutto sommato ancora c'è un eco tipo il Big Bang oggi e la teoria è molto semplice e si può enunciare con una sola frase, l'ontogenesi, che sarebbe lo sviluppo embrionale, ricapitola la filogenesi, quindi ci sono degli stadi filogenetici che si sommano, diciamo si aggiungono, ci sono gli stadi, ogni stadio si aggiunge uno stadio successivo fino ad arrivare alla punta, l'apice dell'evoluzione, il più evoluto di tutti, sapete chi è? L'organismo più evoluto di tutti? Ok questa è una minchiata pazzesca, lo sappiamo, non siamo i più evoluti, quindi la sua idea era che ci fossero delle tappe pesce, perché durante lo sviluppo abbiamo le fessure branchiali, lo sapete che abbiamo le fessure branchiali, le studierete, sono importantissime, sono il punto di partenza di alcune strutture adulte, perché abbiamo le fessure branchiali? Perché è la fase pesce, noi passiamo da una fase pesce, poi andiamo verso delle fasi più così, arriviamo alla fase scimmia, non si capisce perché non c'è tutto sto pelo e poi ad un certo punto siamo uomini, non era male, lui qui vedeva un'evoluzione e nella sua diciamo così semplicità immaginava che questa evoluzione fosse avvenuta per aggiunta di nuove tappe, non è del tutto sbagliato, ma non è neanche vero, siamo tutti evoluti allo stesso modo, insomma adesso questa cosa qui la vedremo, però è vero che ci sono degli interessanti e curiosi parallelismi tra lo sviluppo e l'evoluzione e in effetti voglio darvene così un'idea e una delle parti che si somiglia di più sono proprio le prime fasi embrionali, sapreste dirmi e non vi faccio il V-Clap, alzate solo la mano, allora pronti, secondo voi qual è l'uomo? Uno è un uomo e uno è un umano e uno è invece una lucertolina, chi è chi? Allora chi vota per questo cicciotto qua per la lucertola mi alza la mano, scusate questo qua non si vede la mia freccia? Ok questo, questo, infatti potrei attivare un puntatore più evidente, com'è che è? Laser pointer, ecco, questo, la lucertola, lucertola uomo dai, come mai? Questa è la lucertola sì, ma vi siete accorti che il tetto ottico è particolarmente sviluppato? O avete notato qualcosa che potrebbe ricordare l'aggancio ad un tuorlo? Esatto, questa seconda, però se non fosse stato per questo dettagliuccio, effettivamente questi sono gli archi branchiali, l'occhio, il cervello, i sommiti, ci sono tutta una serie, è difficilissimo l'abbozzo degli arti, è difficilissimo riconoscere giusto questi due, chi è chi? Ma ci vuole una certa esperienza e se andiamo ancora più indietro nello sviluppo diventa quasi impossibile. E in effetti esiste una fase nello sviluppo che chiameremo stadio filotipico, avete sentito già parlare? Si è già sentita nominare questa parola, no? Ok esiste questo stadio filotipico, è uno stadio di sviluppo in cui tutte le celli, tutti gli organismi diciamo così di uno stesso branca classificativa si somigliano e per esempio i vertebrati, anche i pesci, questo stadio iniziale di sviluppo dai pesci ai mammiferi si assomiglia tantissimo, i vertebrati hanno questa fase che è molto simile, gli insetti vedremo ne hanno un'altra, però poi alla fine si somigliano molto. E questo se volete di nuovo però ok non è un problema evolutivo, è un problema evolutivo, però non sono tappe, non è una tappa pesce che noi passiamo d'accordo e poi il pesce si ferma lì, anche il pesce continua il suo sviluppo semplicemente in un'altra direzione. Però evidentemente c'è uno stadio che è più conservato e quello è lo stadio vedremo in cui si forma il piano del corpo, la testa, gli occhi, evidentemente e non vi so dire esattamente perché ma potete provare a pensarci anche voi, è più facile cambiare tutto quello che c'è a valle di questo primo stadio e che chiameremo morfogenesi, quindi farsi venire delle braccia lunghissime, qui metto le braccia ok, poi come le faccio queste braccia? Le posso fare lunghissime, le posso fare più corte, un dito più lungo, un dito più corto, tutta quella parte lì dello sviluppo evidentemente è più facile da modificare che non il piano del corpo, qui metto la testa, qui c'ho il busto, qui c'ho ok e in effetti diciamo che tutta la parte di morfogenesi, quindi da qui in su noi non la vedremo, è più di tipo anatomico se volete no? Noi ci concentreremo davvero su come si setta il piano del corpo ok? E come si cominciano i lineage e poi dopo sarebbe anche di biologia dello sviluppo occuparsi di come si sviluppa un polmone, però diciamo lì è più, diventa troppo specialistico o comunque non abbiamo tempo. Ok, però qualcosa che io vorrei dare per scontato, ditemi di sì ancora e poi abbiamo finito con le premesse e diciamo così il ciclo vitale, il ciclo di sviluppo, le fasi e i nomi delle fasi, sì o no? L'avete già fatto in anatomia questa cosa? La segmentazione, vabbè le rivedremo, le rivedremo queste cose, quindi c'è la fecondazione, la segmentazione, produciamo tante cellule, poi c'è una fase che si chiama gastrolazione in cui le cellule si riorganizzano in una struttura tridimensionale più complessa e da lì comincerà l'organogenesi ok? E in realtà noi vedremo appunto fino qui diciamo l'inizio dell'organogenesi, vedremo queste fasi, avremo bisogno di avere un'idea dell'anatomia, dei movimenti e quella è la parte più faticosa ok? C'è una componente anatomica che ci servirà avere e mi dispiace non la posso saltare, serve averla ma non è lo scopo del gioco, d'accordo? E' solo il campo da gioco, quella è solo una premessa, lo so che dovrete ancora acquisirla, non vi preoccupate, sarà un po' faticoso, lo faremo, però quello non è proprio lo scopo del nostro gioco, d'accordo? E' il campo da gioco e quindi entriamo, vediamo queste porte, no? Il campo, cosa sono? Perché qualcuno vuole catturare delle farfalle, forse ho visto delle retili, no? Noi dobbiamo sapere come è fatto questo campo da gioco e poi però quello che ci interesserà appunto sono soprattutto le regole del gioco, la logica. Ok e appunto quali sono le regole, no? I meccanismi che regolano questo sviluppo? In realtà se lo sono chiesti, e qui cominciamo in effetti, scusate, qui cominciamo davvero il corso, da dove, quali sono i meccanismi che permettono alle cellule di auto-organizzarsi e di prendere queste decisioni, se lo sono chiesti in tanti prima ancora che si sapesse che esistevano le cellule. Persino il buon Aristotele, che non aveva il microscopio e poteva giusto guardare così, embrioni che gli capitavano a tiro, non l'aveva tutto sommato sbagliata di tanto, no? Ci aveva quasi preso. Quindi lui sosteneva, non era in inglese, ve l'abbiamo tradotto, che l'aveva enunciata, la sua visione di questo processo, comunque che la forma dell'embrione emerge gradualmente ed è di nuovo a partire da una materia indifferenziata. Quindi c'è uno stato indifferenziato che gradualmente attraverso una serie di passaggi diventa un organismo e non c'è un evento in cui, non c'è un momento in cui puoi dire adesso sei un organismo, adesso no, anche se ci sono delle leggi che fanno finta di voler legiferare su questo e noi dovremmo dire che cazzo di... va bene, e comunque però l'idea iniziale era molto corretta, molto corretta, imprecisa ancora ovviamente mancavano dei dettagli, ma tutto sommato era corretta e questa mi piace raccontarla perché è veramente bizzarra, ma per voi che dovrete fare gli scienziati invece è un fantastico insegnamento, paradossalmente il miglioramento tecnico, l'invenzione del microscopio ha fatto fare un passo indietro, perché proprio con l'invenzione del microscopio nasce l'idea preformista, ovvero chi guardava al microscopio, magari non avevano delle lenti bellissime, però questi primi spermatozoi aveva descritto, era convinto di aver visto dentro lo spermatozoo un omino piccolo che doveva solo essere gonfiato, capito? È evidente, l'uomo, il maschio è quello che, capito? Anche perché c'è stata la creazione, quindi è già tutto fatto, quindi il maschio porta questo messaggio di Dio, il corpo della donna è solo un contenitore, non serve a molto, cioè così, nutre, vabbè, poteva essere anche un altro. Però ho capito, adesso io qui vi ho messo anche la foto di uno spermatozoo, io non so se ce lo vedete, l'omino, io personalmente no, anche se guardo molto da vicino, io l'omino proprio non lo vedo, ok? Però lì che cosa c'era? C'era il vedere quello che vuoi vedere e attenzione perché questo è un rischio per tutti gli scienziati, tu stai facendo delle ricerche e non vedi tutte le cose che non vanno nella direzione della tua ipotesi e vedi solo le piccole schifezze, lo sporco che invece sembrerebbe confermare la tua ipotesi, a questo bisogna stare super attenti, cari i miei futuri scienziati, comunque in realtà chiaramente questa era una minchiata ed era puramente di natura ideologica, c'era una matrice religiosa fortissima dietro a questa idea che addirittura faceva avere le traveggole a chi guardava il microscopio, in realtà chiaramente la teoria cellulare ha distrutto queste ipotesi molto rapidamente, nel momento in cui si è capito che l'uovo è una cellula che si divide e che a un certo punto queste cellule diventano tante cellule, prendono delle forme, prendono dei lineaggi, la teoria preformista, ok ce la siamo dimenticata per fortuna, grazie, ok? E in effetti il signor Pander, questa era solo istologia, hanno inventato i coloranti istologici, facciamo le fette, coloriamo le cellule, prendiamo un embrione a diversi stadi e il signor Pander con la sua tesi di laurea, questa è la tesi di laurea che ha lasciato più segni nella biologia, anzi lui dopo non ha neanche fatto il biologo, il signor Pander è andato a fare lo zologo mi pare, il paleontologo, è stato un ottimo paleontologo però ha detto sì vabbò scoperto sta cosa, i tre foglietti embrionali e che sarà mai? E ci sono ancora su tutti i libri di testo da 200 anni, comunque il signor Pander scopre i tre foglietti embrionali, ve li ricordate? Ectoderma, mesoderma, endoderma e lui vede che effettivamente l'embrione, le cellule si dividono e a un certo punto alcune diventano ectoderma, alcune diventano mesoderma, alcune diventano endoderma, quindi i loro lineaggi si separano, fanno delle scelte, diventano diverse, iniziano a differenziarsi, altro che preformismo e allora ok, e in effetti se mi permettete vorrei avere un attimo di, oppla dove l'ho messo? E' lui? No, non è questo, aspettate un attimo, no non è questo, volevo entrare in questo magico mondo, forse l'avevo messo prima, date un secondo, eccolo qua, così facciamo una specie di pausa, io non faccio pausa oggi, vero dai? Troppo interlocutoria questa lezione, attenzione, allora io voglio farvi vedere questo video, forse non tutti e sei minuti, vabbè vediamo, qualche minuto, ci rilassiamo un attimo, perché adesso entreremo un pochino più nel vivo, d'accordo? E quindi qui ci sono tutte le tappe, non è che le descriviamo, però effettivamente vorrei che cominciaste a guardare queste cellule, il modo in cui si dividono e cominciare a chiedervi, saranno già diverse? Sono uguali? Quando le due cellule figlie, dopo la divisione, quando è che cominciano ad essere diverse? Non è affatto una risposta semplice, e qui vedete una salamandra che si sviluppa diventare una salamandra, bisogna avere il genoma giusto, quindi non credo che ci riuscirete mai, però così, prima divisione, brrr, un fremito ed ecco questo enorme solco, attenzione, questa è una cellula, adesso sono quattro, però sono dei bestioni giganti, il nucleo è un cosino microscopico in mezzo, d'accordo? Non è proprio la cellula che siamo abituati, con cui siamo abituati a avere da che fare, ok? Queste sono uova che sono molto grandi e quindi l'inizio è, ok, suddividere in tanti piccoli appezzamenti, ok? Si chiama segmentazione e quindi suddividiamo questo citoplasma della mamma in tanti piccoli appezzamenti, quindi da 8, 16, guardate chi è che sta battendo il tempo? Ma si parlano o no? Com'è che si dividono tutti allo stesso momento? Adesso non sentiamo la musica, ma forse stanno cantando, è vero? I will survive, first I was afraid, I was a blastula. Ok, ed ecco che a un certo punto però qualcuno, scusate un attimo, sembrano tutte uguali, giusto? Sono, a voi non vedete un cazzo? Non so come fare a fare più buio, no, questo no, così è ancora peggio, no, questo, insomma così va un po' meglio, un pochino meglio, comunque attenzione, lì vedete che c'è qualcuno che comincia a comportarsi diversamente dagli altri, fa un po' il pazzariello e inizia ad invaginarsi. Come si chiama questa fase? Eccolo qua, questa fase in cui abbiamo questa invaginazione, qui è bellissimo sto video? Si vede così così, questa fase in cui c'è l'invaginazione si chiama? Forte? La gastrulazione, siete pieni di foto che mangiate le pappette e questo momento cruciale della vostra vita non avete neanche un fotogramma, non è giusto. Comunque, esatto, la gastrulazione, questo è il momento in cui si formano i famosi tre foglietti embrionali dello zio Pander e quindi qui vedete a un certo punto la gastrulazione fa tutto il giro, studieremo questo meccanismo, non vi preoccupate ci dedicheremo un po' di tempo perché non è facilissimo e a questo punto l'embrioncino si allunga, adesso vediamo, dentro è entrato questo tessuto, quindi adesso abbiamo l'ectoderma, il mesoderma e l'endoderma ed ecco che questo embrioncino a un certo punto deve autoplasmarsi e la prima cosa che fa, ah no attenzione qui si formano le pieghe neurali, avete presente? C'è Mosè al fondo che fa così e il Mar Rosso si solleva, eccolo qua, quindi qui vediamo si chiude prima il midollo allungato, il midollo spinale e poi questo sarà il futuro cervello e se questo è il cervello da qualche parte lì dovrebbe cominciare a esserci un occhio, c'è già, non c'è ancora, ci sono già le cellule, ci sono cellule pronte a fare l'occhio ma devono finire il differenziamento, chi lo sa? Nel frattempo l'embrione si allunga, non è una palla, la salamandra è lunga giusto? Chiaramente lo spazio è stretto e quindi lui si allunga un po' così come un coltello a serramanico, vedete che si chiude e intanto c'è un gran fermento, non so se riuscite a vederlo, lo vedrete magari meglio poi da casa, però là sotto c'è un sacco di cellule che migrano, che si spostano e appunto qui siamo già entrati però nell'organogenesi, alcune cellule hanno già capito che diventeranno cuore e inizieranno a battere, qui iniziamo a vedere un occhio, lo vedete qua, non si vede ancora che è un occhio, è già un occhio, non è ancora un occhio, c'è un processo, vedremo ci sono dei momenti in cui si decide dove fare un occhio, qui vediamo gli arti, poi in effetti forse scusate lo accelero un pelino, perché se no, ma è anche bello così, facciamo un po' di pausa, secondo me è molto rilassante, ok lì si cominciano a vedere e addirittura ci sono i muscoli, si sta cominciando a muovere, ci sono dei milanociti, li vedete? Quindi questi muscoli iniziano a far muovere la larva ed ecco che appunto riusciamo a uscire da questo sacchetto, ma sei solo un embrione, guarda che bravo, già si sveste, si veste, si sveste, va a scuola da solo, questi embrioni di salamandra sono molto indipendenti, si nutrono anche da soli, fantastico, io ho sbagliato e ne ho fatto uno umano, invece bisogna stare sempre dietro. E lì vedete appunto questi melanociti, in realtà sono melanofori, che cominciano a differenziarsi e a produrre melanina e poi insomma qui l'occhio, vabbè poi ve lo guardate, qui c'è il cuore che si vede già che inizia a battere, qui sta battendo il cuore, lo vedete? E le branchie in cui passano, comunque queste comunità di cellule si è autoassemblata, nel giro di un giorno siamo passati o due, vabbè dipende anche dalle specie, questa non lo so, in effetti a volte sono anche molto più lunghi, comunque siamo passati, però tendenzialmente queste specie cercano di fare in fretta perché non si sa mai, lì sei vulnerabile chiaramente, è meglio scappare via, qui vedete l'occhio e ancora melanociti, comincia a formarsi un bel disegno, perché ci sono questi disegni? Le strisce dove le abbiamo? Qui, lì, chi ha deciso dove si mettevano questi melanociti, questi melanofori? Guarda che belli che sono! Ok, e poi a un certo punto, qui si vedono bene le branchie, la nostra larvetta, adesso ho messo anche un bel po' di melanina, lì che ci protegge dalle radiazioni solari per non bruciarci gli occhi, ok? Va bene, allora quello che appunto, quello che appunto cercheremo di capire e si è cercato di capire negli ultimi 200 anni, da quando Pander ha, no anche meno di 200 anni, 150 anni, da quando sono stati scoperti questi lineaggi e in effetti quelli che sono i meccanismi cellulari che portano le cellule a differenziarsi e una prima teoria che di nuovo andava dritta al punto, poco dopo aver capito, insomma proprio dopo Pander che descriveva questi lineaggi cellulari, a questo punto se le cellule sono in un lineaggio l'idea era che il differenziamento fosse legato a questo lineaggio, fosse legato al destino cellulare, le cellule si dividono e quando si dividono si dividono anche i destini, io farò questo, tu farai quello, ok? Quindi la storia del destino cellulare è scritta alla mitosi e nella sequenza di mitosi che ogni cellula avrà. In effetti questa idea però si portava anche a un'idea di quello che fosse la regolazione del potenziale, perché a un certo punto la cellula uovo deve poter avere il potenziale massimo di differenziare in qualunque tipo cellulare, mentre man mano che procediamo verso tipi specializzati, questo potenziale lo potremmo pure perdere, diamo un fastidio, è il vento, do fastidio alla porta, non sto simpatico manco alle porte, va bene. E in effetti questo signor Weissman, adesso lo vedremo, c'era uno scienziato, in effetti lo cito dopo, che si chiama August Weissman, che aveva detto, ma tutto sommato, e non era male come proverbio, una gallina, che cos'è una gallina, è solo il modo che un uovo ha di fare un altro uovo, siamo tutti d'accordo su questo? E in effetti, tutto sommato, si potrebbe pure perdere il potenziale differenziativo, chi se ne frega che la cellula dell'occhio abbia tutto quello che serve per creare un altro uovo. In effetti, questo signor Weissman si era reso conto che durante lo sviluppo, nella divisione di questi lineaggi, c'erano alcune cellule che si separavano molto precocemente da tutte le altre ed erano le future cellule germinali. Lui aveva già fatto questa osservazione, vedremo, è sempre abbastanza così, le cellule germinali si separano molto presto durante lo sviluppo, quelle che daranno origine alle gonadi, ovociti, spermatociti etc. Queste cellule si separano molto presto e allora da questo lui, come dire, tira fuori un'idea, un'idea che è quella dei determinanti cellulari e non è male e provo a raccontarvela. La sua idea che era puramente teorica era che però nel nucleo, quindi già aveva capito che era il nucleo la chiave e non il citoplasma, niente male, non si sapeva niente di DNA, non si sapeva niente di geni, neanche di genetica, però lui vede il nucleo come la chiave. Nel nucleo ci sono dei determinanti, magari noi oggi pensiamo a fattori di trascrizione, lui non sapeva manco che esistesse la trascrizione, ok però dei determinanti nucleari e quando le cellule si dividono questi determinanti si dividono, quindi la parte destra prende i determinanti per la parte destra, la parte sinistra i determinanti per la parte sinistra e man mano che le cellule si dividono continuano a dividersi questi determinanti, divisioni puramente asimmetriche, lui vedeva un mondo di divisioni asimmetriche, d'accordo, sapete cos'è una divisione asimmetrica già giusto? Una divisione in cui le cellule figlie non hanno lo stesso destino, perché ci sono dei determinanti, lui immaginava questa cosa qui e quindi a questo punto cosa succede? Che però le cellule germinali, dove l'ho messe? Ecco le cellule germinali mantenevano tutti i determinanti, mentre le cellule figlie se li dividevano, ok non è che per forza ogni divisione c'era una perdita di determinanti, d'accordo, la vedeva in modo un po' più plastico e quindi questi determinanti definivano che cosa saresti diventato, quindi questa cellula qui, queste cellule qui che prendono il determinante, lui non sa cos'è, a triangolo, diventeranno le cellule triangolo, le cellule cerchio, le cellule queste e le cellule quelle altre, ok? Non era per niente male, quindi il destino è legato al lineaggio, sei figlio di un fabbro? E farai il fabbro, sei figlio di un avvocato? E farai l'avvocato, purtroppo è abbastanza ancora così, vero? Ok, in realtà lui non vedeva in questo lineaggio nessuna plasticità, quindi la sua idea era che il destino era la strada, quindi che il destino, il lineaggio cellulare, la storia di divisioni fosse la stessa cosa del potenziale, il potenziale si riduce con la storia delle divisioni e ve l'ho scritto qua, quindi c'è una perdita irreversibile di potenziale differenziativo, una volta che ti sei diviso hai perso i determinanti per diventare la testa, perché se hai coda, hai solo i determinanti per la coda, è chiaro? Quindi è irreversibile questo processo e non c'è potential, noi sappiamo tutti in realtà che c'è questo potential, giusto? O boh, cosa ne sapete? Vabbè lo vedremo, in realtà senza sapere bene come prendere questa teoria, perché era molto virtuale e parlava di cose che era impossibile maneggiare, però cosa possiamo provare a fare? Possiamo provare a fare un esperimento, e qui di nuovo comincia il secondo inizio del nostro corso, perché io in questo corso cercherò di avere un approccio molto sperimentale, d'accordo? Poche certezze e molti dubbi, mi piace che è una figata per dare l'esame, no lo so, fa paura, però non vi preoccupate, a noi me ne frega un cazzo dell'esame, mi interessa che diventiate degli scienziati, e gli scienziati devono saper maneggiare proprio questo, il dubbio, siamo dei fantastici maneggiatori di dubbi, vedrete, diventerete esperti anche voi, e interpretazioni. E per questo vorrei proporvi l'esperimento del signor Roo, era un allievo di Weissmann e aveva deciso di testare la teoria del maestro. Oh maestro, bella la tua teoria, la testeremo subito, e quindi la sua idea qual era, qual è stata? Prendere un embrione di rana e nella rana la prima divisione divide la parte destra dalla parte sinistra, lui con un ago incandescente distrugge il nucleo di uno dei due blastomeri, in questo caso la parte sinistra, e quindi a questo punto dice, va a vedere, cosa ci aspettiamo che succeda? Vediamolo con un V-Club, scusate, rispondete voi, ditemelo voi. Allora a questo punto che cosa potrebbe succedere? Alla parte viva, quindi abbiamo un blastomero che è rimasto vivo, cosa ci aspettiamo che succeda? Potrebbe svilupparsi in una larva normale, quindi si riorganizza, sono da solo? Vabbè ma sono sempre un nucleo all'inizio e quindi potrei ridividermi e avere di nuovo una parte destra e una parte sinistra. Si svilupperà come mezzo embrione? Oppure dice, ma io da solo cosa devo fare? Che senso ha fare mezzo embrione? A che pro dividersi? È uno spreco di energia, muoio subito, così muoio rilassato. Muoio, muoio. Che cosa succederà? Dai forza, votate, votate, votate. In pratica quello che stiamo facendo, stiamo saggiando il potenziale del blastomero rimasto vivo, ok? Stiamo saggiando il suo potenziale, cosa sei capace di fare? Solo la parte destra? Oh magari se ti stuzzichiamo Pucci Pau, riesci a far darci anche qualcosa di più. Ok, io direi che qui siete tutti molto d'accordo, pochi ancora, potete notare di più, no? Dai tirate fuori questi telefoni, che ero curioso. Comunque sono convinto che effettivamente è più o meno è quello che vi aspettate, no? Da dove vengono fuori i gemelli identici? In realtà vi dirò, i gemelli identici vengono fuori ancora da un altro sistema, però per esempio una separazione di due blastomeri e questo può dare due gemelli identici. Esatto. Allora, oppure non si divide per niente. Ve lo dico che cosa succede? Succede quello che nessuno di voi aveva immaginato. Ma che era esattamente d'accordo con la teoria del mio maestro? Oh grande Weissman, avevi ragione! Si è sviluppata solo la parte destra dell'embrione, chiaramente arriva solo fino a un certo punto, poi sicuramente lo sviluppo si interrompe, d'accordo? È difficile chiudere il tubo neurale a metà. Insomma, questo mezzo embrione inizia solo, si abbozza, però inizia, fa la gasturazione, diventa una blastola, fa anche la gasturazione e poi muore. Arriva fino alla neurola. Pazzesco! Ma allora aveva ragione lo zio Weissman. Si può darsi, però noi che siamo degli scienziati dobbiamo renderci conto che l'esperimento non è pulito, come diciamo noi in gergo, ehi raga. No dai, questo esperimento non è pulito, però è sporchissimo, cioè hai visto? Come fai a svilupparti col cadavere, una cosa è se ti dico sviluppati autonomamente, un conto è se ti aggancio il cadavere di tuo fratello morto, ho capito che un po' ti inibisce. E effettivamente non è la stessa cosa, immaginate l'adesione cellulare, chi ne sanno? Le cellule si sviluppano ognuna per conto suo, questo sì, però hanno dei feedback probabilmente e questi feedback continuano arrivare, il nucleo è morto, non si sta dividendo, però è lì, d'accordo? Occupa il suo spazio, ci possiamo aspettare di là, tutto bene? C'è il cadavere, no sono bene per niente, allora ok andiamo con la neurolazione, vai vai! E invece dall'altra parte c'è un cadavere, bisognava immaginare e questo era evidente anche all'epoca, bisognava immaginare un esperimento più pulito e così un allievo di Roux, e qui andiamo di allievo in allievo, che si chiamava Hans Drisch, in effetti lui se non sbaglio a Napoli era andato, comunque aveva imparato a manipolare i ricci di mare, era uno sveglio e furbo e aveva trovato il modo di rompere questo fertilization envelope, che è la membrana vitellina, credo si possa dire in italiano, comunque che gli sta intorno, lo rompeva, giocando un po' con i sali, scuotendo un po' senza fargli male, riusciva a separare i primi quattro blastomeri, però questa volta ha cambiato specie, siamo nel riccio di mare appunto. Allora, che cosa ci aspettiamo che succeda questa volta? Quindi abbiamo preso quattro blastomeri, siamo alla fine dell'Ottocento, lui prende, fa questi quattro blastomeri, va a casa dalla moglie, guarda un film con i figli, comunque il mattino dopo torna in laboratorio, che cosa troverà nelle sue piastre? E me lo dovete dire voi, voglio che mi dite che cosa vi aspettate che si… Quale sarà il risultato di questo esperimento? Questa volta stiamo assaggiando il potenziale di questi blastomeri in maniera in effetti più pulita, l'esperimento è più pulito. Chiaro che il blastomero non ha il suo envelope, non è perfetto, però vediamo un po', quattro embrioni normali, quattro embrioni normali ma un po' più piccoli, nessuno sa più cosa fare perché in realtà non ha senso dividersi oltre, oppure quattro pezzi, la parte anteriore destra, un orecchio e un occhio, destro, un orecchio e un occhio sinistro, non hanno le orecchie e gli occhi ricci di mare ma insomma. La larva pluteo, ok? Un pezzo di pluteo, i quattro pezzi di pluteo, mezza bocca, mezzo buco del culo, che non sanno cosa fare senza l'altra bocca e senza l'altro mezzo, buchino del culino, oddio, qui proprio ormai vi ho confuso le idee pazzesche, ma questo è giusto, uno fa l'esperimento perché si aspetta possibili risultati e ha un'idea di come interpretarli. Avete un'idea di come interpretare ciascuno di questi risultati? Stiamo assaggiando di nuovo il potenziale, cosa sai fare? Oh tu, piccolo blastomerino, derivato dalle divisioni di 4 blastomeri e la risposta giusta è 4 larve normali solo un po' più piccole, d'accordo? Perché la massa chiaramente in queste specie, il grosso della massa viene lasciato dal citoplasma, poi iniziano a crescere dopo, quindi sono più piccoli ma sono normali, hanno tutti i pezzi e quindi a questo punto però Drish fa una scoperta fondamentale ed è per questo che ne stiamo parlando ancora oggi, ovvero che, lo vedete da soli? Weissmann diceva che il potenziale si riduce in modo irreversibile lungo il lineaggio, che il tuo destino è segnato, d'accordo? Dalle divisioni cellulari che fai, quindi effettivamente se fossero rimasti ciascuno nell'embrione iniziale, ognuno di questi pezzi avrebbe dovuto dare origine solo a un pezzo della larva, non a tutta la larva intera, quindi il loro destino era segnato, qui se seguivamo il lineaggio il destino di quel blastomero era segnato, ma Drish scopre che però anche se è vero quello era il suo destino, il potenziale in realtà, e lasciamo stare quest'altro recombination experiment, il potenziale di questo blastomero isolato è maggiore del suo destino, cioè che rimane del potenziale, rimane del potenziale che si può esprimere, non viene espresso, ma si potrebbe esprimere e quindi possiamo tradurre questo insieme confuso di concetti, invece cercare di metterlo a fuoco con questa frase, che il destino prospettico, scusate il potenziale prospettico di un blastomero isolato, non è il potenziale prospettico scusate però, il potenziale, lasciamo stare prospective, il potenziale di un blastomero isolato è più grande del suo destino, rimane un potenziale e quindi a questo punto lui che cosa capisce? Che probabilmente la regolazione di questo potenziale è dovuta a qualche fattore esterno, quindi ci saranno tutta una serie di divisioni e poi ci sono dei momenti successivi, non sono lì, non è in queste prime divisioni, succederà dopo in cui si decide il destino di questi embrioni, dipenderà dalla sua posizione relativa, da qualche sistema paraclino, di tutte queste cose ne parleremo, però effettivamente a questo punto lui capisce che esiste un potenziale che si mantiene, non sapeva ancora che c'era il genoma che rimane, tutte queste cose qui, non le sapeva, però il potenziale si mantiene e giusto perché, quindi chiameremo scusate, questo tipo di sviluppo in cui le cellule hanno tutto lo stesso potenziale, ma questo potenziale deve essere regolato da dei meccanismi di segnale, lo chiameremo sviluppo regolativo, quindi serve una regolazione per indirizzare le cellule verso un certo destino. attenzione, non è che non esista anche il caso in cui la cellula in realtà è già determinata di partenza, si chiama sviluppo a mosaico, è l'idea iniziale del signor Weisman ed esiste veramente, esistono dei determinanti, li vedremo, forse li avete già visti, boh non lo so, comunque esistono dei determinanti che la cellula può avere già dentro, li vedremo, lasciati dalla madre nell'uovo e che condizionano lo sviluppo di queste cellule. Per esempio se Drish avesse fatto lo stesso suo esperimento nell'ascidia, avrebbe ottenuto un risultato completamente diverso, lì se separi gli 8 blastomeri invece ognuno dà il suo pezzo di embrione. Ok, voilà e poi facciamo il puzzle. Ma a questo punto però, quindi il potenziale c'è, è bellissimo sapere questa cosa, quindi le cellule perdono il potenziale di lungo e linea, adesso vedremo, però non lo perdono, ma ce l'hanno, ma non ce l'hanno, come lo misuriamo? Quindi man mano che si dividono il loro destino si fa sempre più segnato, vi siete iscritti a biologia? Eh, siete molto vicini a diventare un biologo, l'ingegnere è un po' più lontano, giusto? Cioè è primo anno, siete già al secondo anno? Eh, no qui la vedo, ormai il vostro destino è segnato, no però lo dico in modo positivo, cioè è una cosa bella. Ok, però effettivamente man mano che si va avanti nello sviluppo il destino si fissa, si segna. E questo potenziale cosa ne è? Come facciamo a misurare quanto potenziale rimane? Qui ho messo la foto di Freud per dire, boh, forse andiamo a chiederglielo alla cellula, proviamo a psicanalizzarla, la mettiamo su un lettino e le parliamo, no, non si può, dobbiamo, esatto, metterla alla prova, ci servono degli esperimenti, ok, che saggino questo potenziale, che misurino questo potenziale. Non so se vi viene in mente già qualche cosa, fatemi vedere che ora è perché non voglio, sì ce la faccio, vi viene in mente qualcosa? Qualcuno ha un'idea geniale su come potremmo misurare il potenziale di queste cellule? Tutto sommato gli esperimenti di Drish e anche di Roo erano fatti per quello, non erano delle cattive idee, però vorremmo riuscire a farlo, non solo, perché chiaramente se dissociamo una blastula, poi una cellulina piccola così, ok, non si sviluppa, ma perché? Perché da sola come fa non ha nutrimento, capito? Noi vorremmo assaggiare il potenziale di cellule anche più avanti nello sviluppo, magari fino all'adulto, come facciamo a sapere se questa cellulina, me ne stacco un attimo qua, ecco, come facciamo a sapere se quella, no ancora diventa un altro me, oh dai che io vado al bacco, eh? E marcandole, no tu vuoi assaggiare il suo potenziale, devi metterla alla prova, capito? Tu devi prendere questa cellula e metterla alla prova, diventa me, vai! Eh? Esatto, dobbiamo prendere la cellula e fargli qualcosa, dobbiamo fargli qualcosa per scuoterla, oh! Diventa un organismo fatto tutto intero, come si fa? eh, ok, e quelli sono questi stimoli, qual è lo stimolo in cui una cellula esprime il top, esprime tutta se stessa? Qual è la cellula, l'ambiente in cui un nucleo esprime tutto il suo potenziale? Eh? Eh? L'uovo, la cellula uova, vi piace? La cellula uova non è il posto in cui normalmente il genome si esprime al meglio, esprime tutto quello che ha da esprimere? Ah, ottima idea! E in effetti, vedi, sei arrivato solo 50 anni in ritardo, però complimenti! Esatto, negli anni 50, Briggs e Kings decisero di provare proprio questo, fatto un bel esperimento, fatto bene, costruito bene, con una statistica e questa statistica vi dirò, voglio che ve la stampiate in mente perché è evocativa ed è importante, il nostro corso girerà molto intorno a questo grafico. Allora, l'idea qual è? Ok, nella cellula uovo, nel citoplasma dell'uovo c'è qualcosa che non so cos'è, ma quello è il posto in cui il nucleo della cellula uovo si esprime interamente, ed era un'epoca in cui a malapena si era scoperto il DNA, figurati se sapevamo se tutte le cellule avevano lo stesso genoma oppure no, ok? Non si sapeva neanche quello, c'era chi supponeva che ci fossero perdite di cromosomi durante lo sviluppo. Ok, e quindi l'idea qual è? Di prendere un'ovocita, fatto l'esperimento fatto bene, fare iniziare lo sviluppo, basta appungerlo e poi però toglievano il nucleo, toglievano il nucleo originario e inserivano il nucleo di un'altra cellula, una cellula che era più avanti nello sviluppo, quindi provavano a portarle indietro nel tempo, si chiama nuclear transfer, ma forse voi l'avete già sentito nominare questo esperimento con un altro nome, giusto? La? La? La clonazione, esatto, è un esperimento di clonazione. A questo punto però come misuriamo? Come misuriamo quello che succede? E l'idea non è niente male, allora aspettate, scusate che ve lo faccio vedere qui, sull'asse delle X vedete degli stadi da cui sono state prese delle cellule, c'è ancora tutto un livello rimane sconosciuto di che cellule avete preso, ok? Come stavano queste cellule? Non lo sappiamo. però appunto dissociano l'embrione, chiappano una cellula e la sbattono dentro al citoplasma della cellula uovo e poi la guardano, eh che fai? Che fai? Cosa stai a fare? A questo punto però come quantifico questo potenziale? E loro lo quantificano così e lo vediamo sull'asse delle Y, la percentuale di trapianti che ha portato ad un embrione che si è sviluppato, ok? Cioè che ha iniziato lo sviluppo e è arrivato almeno un po' avanti, non stanno lì, non mi ricordo fino a che punto arrivano o quando è che si fermano, però se arriva la gastrulazione, se è neurola, insomma si formano gli organi, allora siamo contenti. Anzi se non sbaglio natante, volevano che si muovesse anche un po'. E quindi a questo punto guardate qui, blastula late, sapete cos'è la blastula? Le cellule si dividono, formano questa specie di pallone da calcio, dissociamo questo pallone da calcio e prendiamo diciamo subito prima che inizi la gastrulazione. Subito prima della gastrulazione, guarda qua, l'80% dei nuclei che trapiantano in un'onovocita si sviluppa, non so dirvi l'enne esatto, non so se erano 100, forse qualcuno in meno, però insomma fanno un bel esperimento pulito, nell'80% dei casi hanno delle larve natanti e questo vuol dire però anche che l'esperimento viene bene, d'accordo? Cioè che lo fanno bene dal punto di vista tecnico, cioè potevano esserci anche, chi lo sa, adesso non so se lo fanno proprio con un'altro ovocita, ma comunque. Ok, dopodichè però guardate un po' all'early gastrula, quindi quando si è iniziata a formare quella fossetta che abbiamo visto, è cominciata la gastrulazione, di nuovo dissocio le cellule, ne acchiappo una, la butto lì, ci saranno cellule diverse, non è che sono tutto uguali queste cellule, comunque ne prendo a caso tra questi triliardi, dice milioni di cellule che già ci sono e a questo punto siamo solo più al 50%, a volte sì e a volte no, ma è forte sta roba, non è che l'esperimento dà sempre lo stesso risultato, a volte sì e a volte no, però effettivamente vedo andare giù, c'è un qualcosa, no? È meno probabile, comincia a dover descrivere questo potenziale in termini probabilistici, faigo! Ok, andiamo un pelino più avanti e guardate durante la gastrulazione, questo è l'inizio della gastrulazione, alla fine della gastrulazione siamo solo più al 20% di successo e a un certo punto quando tailbud vuole dire quando ormai c'è appunto la larva si è più o meno formata, ma è ancora molto immaturo, zero, nessuno degli esperimenti che hanno tentato di transfer ha dato origine e quindi la conclusione è che la clonazione non si può fare e c'è una perdita verticale di potenziale durante lo sviluppo e che è verticale? Insomma dalla blastula durante la gastrulazione proprio giù di brutto, poi in effetti qui piega un po' però siamo su percentuali marginali, quindi c'è una perdita di potenziale durante lo sviluppo, le cellule fanno fatica ad essere riprogrammate, dobbiamo usare queste parole, non è bianco o nero, non è matematico come ci piacerebbe, fanno resistenza e questo concetto probabilistico di fare resistenza voglio che lo teniate bene a mente. In realtà qualche anno dopo, pochi anni dopo, un altro studioso, uno molto famoso si chiama John Gordon ed è un Nobel laureate, lui ha preso il premio Nobel di recente, anzi proprio per questi studi, però ha fatto un sacco di altre ricerche, è un guru della biologia dello sviluppo e il signor Gordon che è ancora vivo tra l'altro, ha provato la stessa cosa ma in un'altra specie, lo Xenopus levis, a quei tempi si usava, c'erano dappertutto, in tutti gli ospedali c'erano un sacco di sti Xenopi perché si usavano per i testi di gravidanza e quindi ce n'erano da tutte le parti, era arrivato questa specie che si poteva usare per questo, lui era in un laboratorio che studiava quello, insomma vabbè, prova a fare questo esperimento, giusto per vedere se gli veniva e come gli veniva e comunque lui proprio qui se volete per fortuna, è fortunato e la sua curva di riduzione del potenziale invece è un po' più alta, lui riesce a ottenere degli animali e li vedete qua, questi sono tutti i suoi cloni, lui riesce a ottenere degli Xenopi prendendo cellule invece da organismi già adulti, in realtà lui li prende dalle larve, però insomma lui riesce a rifare questo esperimento e gli viene e quindi wow c'è la clonazione, ci vorrà un bel po' di tempo prima che questa cosa venga applicata anche ai mammiferi, lo sapete giusto, è stata fatta la pecora Dolly negli anni 90, poi eravamo convinti che ci sarebbero stati cloni da tutte le parti, che avremmo avuto mille Brigitte Bardot e in realtà non è successo, ma giustamente perché non è successo? Perché la clonazione non viene utilizzata a un granché né anche in zootecnia? Perché non è efficiente? Perché questi nuclei è vero che si può fare, possiamo prendere un nucleo e metterlo e tutte le cellule hanno lo stesso genoma, ma non c'hanno voglia, c'è qualcosa che fa resistenza e voi sapete che cos'è vero? Sapete perché la cellula fa resistenza a questa riprogrammazione, non vuole e in qualche caso se sei fortunato potrebbe succedere? Ma va bene, ne parleremo la prossima volta, in realtà e anche questo secondo me lo sapete già, c'è poi un altro sistema e infatti questo signor Yamanaka è quello che condivide il premio Nobel con Gordon, esiste un altro sistema per riprogrammare le cellule verso la pluripotenza, quindi per far riacquisire alle cellule tutto il loro fantastico potenziale differenziativo ed è quello di usare i fantastici quattro, la sapete questa storia? Ci sono questi fattori di trascrizione, quattro, ne bastano quattro ed ecco che diamo una bella rinfrescata al nostro genoma, tutto si riorganizza e abbiamo delle cellule che ritornano pluripotenti, non è un ovocita, queste cellule da sole non danno origine allo sviluppo, attenzione è una cellula e anche se ha il potenziale non si sviluppa in un nuovo organismo, perché non è un ovocita, gli manca tutto l'apparato diciamo che servirebbe per fare questo, ma possiamo indirizzarle verso qualunque fenotipo, possiamo farle diventare muscolo, possiamo farle diventare dei neuroni, possiamo farle e questa cosa chiaramente meritava il premio Nobel, vengono utilizzate, sono in tutti i laboratori e ce le abbiamo dappertutto. Guardate che mi si sta a spegne il computer e devo agganciarmi, ok e questa storia la sapevate vero? Ve ne hanno già raccontata, ok e di nuovo però che cosa ci dice? Che c'è un potenziale, il potenziale in termini diciamo così estremi ce l'hanno tutte le cellule, tutte le cellule hanno il potenziale, perché hanno il genoma, però poi insomma per esprimerlo questo potenziale serve qualcosa che ancora non sappiamo che cos'è, ma lo scopriremo. Voila e vi dirò, sì voglio ancora fare solo un paio di passaggi e poi abbiamo finito, oggi finisco un pelino prima, 10 minuti e abbiamo finito. Allora a questo punto però questo potenziale d'accordo è espresso in termini probabilistici, è difficile parlarne, è difficile esprimerlo con dei concetti netti, invece noi abbiamo bisogno di qualcosa di più semplice da spiegare. In effetti durante lo sviluppo, diciamo durante la storia della biologia dello sviluppo, il concetto di potenziale è stato sviluppato attraverso il concetto di commitment. Attenzione, che cos'è il commitment? Lo sapete già, avete già sentito parlare, usare questa parola? Commitment è proprio un processo che descrive l'acquisire un fenotipo, fare una scelta di destini cellulari. Quando le cellule hanno fatto, finito questa scelta le chiameremo committed. Allora questo però andare verso il committed state è un processo fatto di fasi in cui questa scelta sul destino cellulare si solidifica o si rafforza, va consolidata, d'accordo? Quindi è un processo. Partiamo da uno stadio molto di alto potenziale e arriveremo a uno stadio differenziato, chiamiamo noi, giusto? La cellula differenziata è una cellula che ha un fenotipo e nel mezzo però avremo un processo nel quale distingueremo anche, entro un certo limite, alcune fasi. Quindi scusate, ve lo scrivo qua meglio, passeremo da una fase uncommitted, quindi dove non abbiamo un committed, ad una fase in cui invece ci chiameremo differenziati. E tutto questo processo è il commitment, una serie di stadi. Chiaramente questi stadi saranno tantissimi, saranno mille, milioni, che ne so, come si fa a descriverli? Saranno tanti per ogni cellula e poi c'è tutto questo problema probabilistico. Ok, però noi utilizzeremo comunque due, due diciamo così concetti, un po' vaghi, lo so. E il primo che descrive un livello di commitment, il primo livello, quello più labile, lo chiameremo specificazione. Che cos'è la specificazione? È la propensione di una cellula a diventare un certo particolare fenotipo, ad acquisire un certo particolare fenotipo, a differenziare in un particolare tipo di cellula, un eritrocita. Ok? E in effetti come faccio io a capire che cosa vuol diventare quella cellula? Capite che? E quindi qui vi sto riempiendo di dubbi, ma coltivateveli che vi fanno bene. Come faccio io a assaggiare questo potenziale? Vediamo. Allora, tu vuoi fare il biologo? Sì, come no? Dai, ti stai cambiando idea proprio oggi. Vuoi fare il biologo? Ok. Allora, come facciamo a capire se diventare un biologo? Vabbè, ti prendo, tu sei già committed, ok? Hai già preso la tua decisione. Quanto sei convinto di voler diventare un biologo? Allora, proviamo a assaggiare la tua convinzione di diventare un biologo. Ti prendo, ti chiudo in una stanza da solo, con un po' di libri per carità, però sei lì da solo, poi torniamo dopo due anni, no, quanti ne mancano? Tre, dopo tre anni e veniamo a vedere se sei vivo, in effetti se sei lì che ci parli di cellule, di differenziamento. Wow, ok, ma allora tu eri proprio la testa del biologo, volevi diventare un biologo, d'accordo? In isolamento saggiamo il tuo potenziale endogeno. Messo lì da solo, senza stimoli, che cosa diventi? È chiaro che dire senza stimoli quando sei da solo in una stanza non è proprio, magari ti suicidi, esatto, non è proprio un ambiente neutro. Ma che cos'è un ambiente neutro? Come si fa? Ok, ci accontentiamo. Mettiamo in una piasta di cultura, vediamo se diventi qualche cosa, quindi se continui il tuo processo autonomamente, in modo solipsistico, allora a questo punto diciamo, eri specificato a diventare un biologo, ok? Ecco, ma io voglio vedere quanto eri determinato a diventare un biologo, ok? E allora come faccio? A questo punto devo di nuovo saggiare il tuo potenziale, ma voglio metterlo alla prova. Quindi tu sei un biologo? Allora adesso ti prendiamo la fidanzata geologa, vai in un condominio dove sono tutti geologi e parlano di geologia tutto il tempo, quando esci la sera incontri solo geologi e vai solo in locali dove ci sono geologi e tutti parlano di pietra, 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 pietra. Allora poi vengo di nuovo dopo sei mesi, due anni a vedere se hai cambiato idea, ok? Se ti metti a parlarmi di cellule, di fattori di trascrizione e di livelli di commitment oppure se invece, ma sai che ho visto questo scisto, ci sono alcuni cristalli meravigliosi e ci cominci a parlare di pietra anche tu. Allora, il concetto qual è? Che la specificazione è reversibile. Quindi tu eri specificato per diventare un biologo, ma se io ti metto in mezzo ai geologi e tu decidi che invece la geologia è la tua strada, allora non eri determinato, ok? E' rispecificato ma riusciamo ancora a riprogrammarti. Ok? Quindi la specificazione è uno stadio in cui la cellula ha preso un indirizzo, ha preso una strada, ma possiamo fargli cambiare idea, possiamo riprogrammarla. E quindi quando succede questo diciamo che era solo specificata. Se invece non riesco a riprogrammarti, a questo punto diciamo che la cellula è determinata e la determinazione è proprio un livello di commitment. E quindi questa scala, questi gradi di commitment che vedete qui è super grezza, quindi andiamo da uncommitted, arriviamo in uno stato specificato in cui ok ho preso una strada e man mano questa strada però a un certo punto si fissa, a questo punto la cellula diventa determinata, magari sempre, vedete come era prima che guardavamo lo sviluppo, la cellula sembra sempre uguale vista da fuori, ma qualcosa dentro di lei sta cambiando su quello che è la sua scelta del destino cellulare e solo a quel punto, quando è diventata determinata, vedremo il differenziamento, quindi prenderà la forma e esprimerà questa sua scelta prendendo un fenotipo evidente. dimmi, il concetto è che dovrebbe farlo più difficilmente, chiaramente ti dirò che credo che siano stati fatti questi esperimenti e andavano in quella direzione, ma poi esattamente non te lo so dire, non me lo ricordo, ma sì sì qualcuno ci ha provato anche, però è un'ottima idea per un esperimento, ma a questo punto se io ho idea delle cellule a diversi livelli di commitment, posso verificare se dal punto di vista della clonazione quello è l'elemento che creava quella differenza? Magari erano le cellule iniziali che non erano uguali, d'accordo? E il problema probabilistico era nel campione che io stavo raccogliendo e non nella scelta che la cellula fa. Ok in realtà l'elemento probabilistico nella scelta della cellula poi allo stesso livello di commitment c'è lo stesso, questo te lo posso dire per certo, in effetti il confronto di vari livelli non me lo ricordo, qualcuno forse l'ha fatto, però quello di prendere cellule precise allo stesso stadio, quello è stato fatto. Ok e quindi però a questo punto questa idea ok ci rimane, teniamocela qua per tutte le vacanze di Pasqua e al ritorno delle vacanze di Pasqua, non voglio farlo adesso perché secondo me ci vuole più tempo, è una cosa più lunga, ok? Al ritorno delle vacanze di Pasqua adesso siamo stanchi e questo diventa invece una cosa già un po' più cicciotta, al ritorno delle vacanze di Pasqua vedremo quell'uovo che rotola giù dalla collina in una delle metafore più evocative di che cos'è questa perdita di potenziale. Ok però quindi vi auguro un Pasqua piena di potenza e di potenziale, quindi a un certo punto prima o poi è anche giusto scegliere un destino, cioè va bene mantenere sempre aperte tutte le porte, però poi insomma qualcosa dovremmo pure fare no? Va bene e ci vediamo quindi mercoledì dopo Pasqua. Certo!